Ciao ragazzi, io sono Red e siamo qui oggi ritornati con un nuovo incredibile video Però abbiamo un ospite speciale, speciale, non gli fa abbastanza onore perché... Ma tu? Ciao! Sono Rico, io sono emozionato Perché Rico è qui? Perché ha fatto un bellissimo tour in bici Come al solito fa delle robe pazzesche, si è fatto da Ferrara fino a... Piacenza Piacenza, quindi ha pedalato insomma E noi, visto che era stanco, abbiamo pensato di tirarlo qua dentro e obbligarlo a fare un video con noi Perché siamo altruisti No, sto ovviamente scherzando, è venuto qua a trovarci e ne abbiamo approfittato per fare questo piccolo video Dove dovremo rispondere a delle domande? Molto velocemente, è un'intervista doppia sostanzialmente, quindi risponderemo entrambi alla stessa domanda Partiamo col video che è già troppo lungo, lì Prima la sigla Nome Riccardo Matteo Nome in campo Enrico Red Fox La frase di intro dei vostri video? Benzornati, sono Rappallini Ciao ragazzi, io sono Red Età? 26 24 Da quanto sei su YouTube? 10 anni 3 con soft air, 6 compreso tutto il resto Colpo singolo o raffica? Colpo singolo Colpo singolo Preferiresti sposare ciccio gamer o marco merrino? Ma direi merrino Ma direi merrino Così Io ciccio gamer E' morbido Il video di cui ti vergogni di più? Eh, l'ho eliminato L'ho eliminato Chiamava tattiche sul campo Tipo Facciamo vedere delle cose Alcune parti del primo video sulla stanza delle armi Il video di cui sei più fiero? Un piccolo documentario fatto su un renactment sulla seconda guerra mondiale Il video con lo scudo C'è qua si vede il livello C'è qua si vede il livello Da quanto tempo stai con la tua amorosa? 7 anni 4 Hai mai recensito un prodotto vendendolo per qualcosa che non fosse? Non è nella mia polis No, ma comunque abbiamo introdotto i warrage apposta per essere chiari al 100% Birra o vino? Se ti dico che non bevo alcolici Lo sapevo, lo sapevo Birra In che squadra giochi? Non ho un club Gioco così a caso Parabellum Dicci qualcosa nel tuo dialetto? Ma sono proprio stuf Te proprio onnessi Cosa ne pensi della community airsoft italiana? È tipo splittata in due metà Una quella più genuina L'altra che diciamo che col tempo andrà via Variegata Piattaforma AK o R15? Me lo chiedi anche A R15 A R15 Il tuo più grande difetto? Sono testardo e tendo ad avere una mia visione molto... Cioè, ampie ma... Cioè, le mie pare, le mie cose Troppo permaloso Di una parolaccia La mia idea era di dire culinaria, però dopo questo dico... Glock o Beretta? Eeeh... Glock Dove? È appena perso il contratto Si parla ovviamente a replica airsoft Glock Che lavoro fai? Il visual designer Il videomaker Cosa ne pensi di Monopolysoft In tre parole? Stile Qualità Abbastanza grande Con la pausa pubblicitaria di Red Ho dovuto ovviamente andare ad abbassare Come al solito La luce che cambierà Durante il video Perché come tutte le volte Registriamo Con luce naturale Che cambia sempre Perché o c'è nuvoloso Oppure c'è il sole che sta pian pianino Cadendo verso l'oblio Io sarò tutto bello usato qua Non ho poliziatore in tre parole Lavoro, qualità, divertimento CQB o boschivo? La mente sceglie il CQB Il cuore sceglie il boschivo CQB Descrivi l'altro in tre parole Più rosso di me Più grosso di me Spontaneo Rosso, grosso Per iscritti così c'è Un parallelismo insomma è simpatico Film preferito? Forest Gump La principessa Mononoke MP7 o MP9? MP9 MP9 Gittata o alto rough? Gittata Gittata Videocollab? Why not? Ruolo preferito in campo? Ala, punta Ti hanno mai preso in giro Per essere pel di carota? Tipo 15 anni fa Quando ero proprio piccolino Sì L'hanno appena fatto Mora o bionda? Mora Mora La mia ragazza è bionda Signori È stato un onore Suonare con voi stasera Silenziatore Sì o no? Sì 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 Videogioco preferito? Far Cry Metro Last Light 6 per 8 48 48 Quanto sei alto? 1,73 1,73 Prima non facevano pile di quadrano così alte 1,92 Maggiorate o monofilari? Ti direi monofilari Anche se non li uso poi così tanto Monofilari Nero o bianco? Nero Nero Peso dei pallini? 0,28 0,25 Plate carrier o chest rig? Tutte quelle domande da 50 e 50 Però ti dico plate carrier Plate carrier Possiedi armi vere? Sì Radice cubica di 27 Tutto lì tipo 9 ma non sono sicuro 3 E 3? Ho fatto il linguistico Mare o montagna? Montagna tipo Talla vita per sempre Montagna Gas o CO2? Gas CO2 Scambiatevi un insulto Vaffan... Si fo... Scambiatevi un complimento Congratulazione Avevo un sacco paura di incontrarti Perché non avevo idea di come ci saremmo trovati Invece sei super simpatico Va bene Il video è finito Io ringrazio tantissimo Rico per essersi prestato a uno dei nostri tipici video a scazzo Spero che vi sia piaciuto anche a voi Ovviamente fate un salto sul suo canale Come se io dovesse sponsorizzare lui Che mi fa molto ridere questa cosa Però comunque fate un salto sul canale del buon Rico Che è un veterano bello incazzato su questa piattaforma Lascio la parola a lui se vuole aggiungere qualcosa Giocate soft air Divertitevi Non spaccate le palle E iscrivetevi al canale Va bene Qui da Red è tutto Noi ci vediamo settimana prossima con un nuovo incredibile video E stay hungry Ciao Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti